eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di approfondimento sulla beta di call of duty infinite warfare oggi parleremo delle due serie di punti quindi delle due score streak più importanti e più forti all'interno della beta una è l'rc8 l'altra è la p3 x la prima la potremmo sbloccare a 1450 punti durante la partita multiplayer quindi costa veramente tanto mentre la seconda a 1550 mentre vi parlo vedrete praticamente in azione le due score streak l'rc8 e la p3 x l'rc8 sarebbe un robot armato come avevamo potuto vedere ad esempio il goliath su call of duty advanced warfare che è possibile controllare manualmente oppure lo potremo mandare in giro per la mappa e quindi con un controllo automatico questo robot è dotato da una parte di doppio scudo dall'altra di una sorta di mitragliatrice quindi farà veramente il devasto in giro per la mappa quello che invece mi ha sorpreso in maniera veramente evidente è la p3 x ho notato che è possibile utilizzarlo soltanto in maniera manuale poi staremo a vedere se nel gioco completo potrà andare anche in automatico è una sorta di mitragliatrice o meglio di doppia mitragliatrice con un controllo remoto che permette di andare proprio in giro per la mappa a fare il devasto assoluto la vedrete infatti in azione perché potrà sia sparare come una sorta di mitragliatrice ma anche lanciare se non ricordo male con l1 dei missili esplosivi quindi due score streak veramente molto ma molto importanti ve ne volevo parlare perché tanti di voi me l'hanno chiesto alcuni ancora non sono riusciti a sbloccarle perché hanno un costo veramente molto alto in partita 1450 per l'rc8 e 1550 per la p3 x e quindi ve le volevo far vedere nel dettaglio fatemi sapere qual è la score streak che vi piace di più all'interno della beta di call of duty infinite warfare e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale